Pro, signore, il D-Roomaster M21, 21 metri, 180 centimetri di lunghezza. Riconfermiamo ancora una volta lo sci di più grande successo delle ultime due stagioni, invariato totalmente sia nella grafica che nella costruzione. È uno sci talmente di grande successo e ancora attualmente in assoluto tra i primi della categoria che era veramente difficile poter proporre qualcosa di nuovo, per cui questa stagione lo riconfermiamo in totale. Ho riscoperto il piacere di sciare, bellissimo in entrata, bellissimo in uscita, dà l'impulso graduale, veramente bello, sicuramente consigliato per uno sciatore di alto livello che lo sa sfruttare, ma nel momento in cui viene sfruttato veramente uno sci solido si conferma uno sci veramente top. Uno sci proprio da gigante, un vero sci da gigante, però semplice da utilizzare in quanto è il raggio 21, facilita l'entrata in curva, facilita l'uscita in curva e il collegamento tra le curve. Quindi per chi vuole approcciare al gigante questo è lo sci perfetto. Uno sci performante, ti dà una risposta immediata, chiaramente devi veramente lavorarlo, se no non gira. Uno sci consigliato a sciatori veramente di altissimo livello. Uno sci veramente centrato, anzi un po' troppo sopra le righe per la tipologia di sci, perché è uno sci proprio da gigante, stabile, facile, entra in curva e dita una tenuta che è veramente estrema. Lo consiglio veramente ai sciatori di alto livello che vogliono usarlo anche per fare qualche gara a mare. Molto bello, molto solido, un bellissimo ingresso curva, sicuramente adeguato a persone che amano un ingresso curva molto solido, molto immediato e sentire un bel appoggio, un bel vincolo dal primo istante fino all'ultimo. Si adatta anche benissimo a chi magari vuole incominciare ad andare in gigante o una categoria master. Uno sci che è piacevole fare delle corrida gigante, mi ha fatto proprio divertire, l'ho sentito bello stabile, preciso, con una buona struttura e un ottimo impulso. Un cavallo da corsa, un gran sci, soprattutto ha un rebound molto elastico, un rebound molto conforme a tutti gli archi di curva, adatto sicuramente ai sciatori esperti che vogliono approcciarsi alla disciplina del gigante. È un sci veramente eccezionale, veramente performante, su questa tipologia di neve dura. Ho trovato molto bello, con grandi soddisfazioni nell'arco ampio e nel medio. È un sci da gigante vero e proprio, è divertentissimo, ingresso e uscita curva sono molto precisi e va bene veramente dappertutto. In gigante con questo sci possiamo veramente puntare all'agonismo. Mi sono trovata bene da subito, buonissima stabilità, ti dà una buona risposta, però rimane super stabile. È davvero uno sci divertente che dà buone prestazioni, sia ad arco medio, corto che agio. Lo consiglio a uno sciatore di alto livello e sicuramente uno sci che va benissimo per chi si vuole avvicinare a uno sci da gigante e anche per i pali. Davvero bello. Si conferma uno dei migliori sci da gigante per anche la prossima stagione. È uno sci veramente top performance per chi desidera approcciarsi al gigante, deve avere una buona preparazione fisica, deve essere sciato soprattutto nel suo arco di raggio. È veramente preciso, è molto semplice nell'inserimento curva, conduce veramente alla perfezione, dove lo metti sta. L'unico difetto è che per sciarlo tutto il giorno ci vuole veramente tanta tanta energia fisica.